Occhio attacco dell'avversario, pericolo, ecco il tiro, rete, splendida rete, c'è la prateria per andare, a spazio prova, una partita magnifica, impreziosita da questi tre gol. Occhio al tiro, e il pallone finisce in gol, due reti messi a segno finora, cerca la porta, ed è rete, prova la botta, una giornata che non dimenticherà, è arrivata la tripletta. L'uscita del portiere di Pugno, Capezzi, e c'è il gol, palla in rete. Ecco il tiro, rete, splendida rete. Grande intervento del portiere, prova a colpire, che gol, splendida rete. Cerca la rete. Attenzione, ecco il gol. E c'è il tiro, deviazione sfortunata del portiere, palla che finisce in rete. Prova in porta, ed è gol, rete. Gran palla questa. Occhio al tiro. Attenzione, rete.